Non è che non ricorda niente, non ricorda ancora. Io credo che lei debba ricordare se stessa attraverso le immagini. E come? Ritornando a essere il più possibile lei. In questo momento è come se ci fossero due moniche. Una del presente e una del passato. E noi dobbiamo farle incontrare. Sono io. Quella sera lei si era preparata e truccata per uscire con Gianluca. È bellissima con quel vestito di seta rossa. È bravissima a fingere. Tu veramente pensi che io potrei ricordare qualcosa che non è mai avvenuto? Mentre ero via. Prossimamente su Rai 1.